I carabinieri del gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad una misura cautelare reale di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta dalla locale procura della Repubblica nei confronti di 10 indagati ritenuti responsabili a vero titolo di truffa aggravata per l'indebito conseguimento dell'erogazione pubblica denominata reddito di cittadinanza. Contestamenti militari hanno effettuato altrettante perquisizioni personali e locali. I soggetti, in assenza di alcuni requisiti necessari per ottenere il monumento, avrebbero percepito indebitamente la somma complessiva di 60.720 euro nel periodo compreso tra i mesi di maggio 2019 e marzo 2021.